C'è una questione che riguarda la lentezza della giustizia, evidente a tutti, nove anni per essere assolti da un'accusa che ha distrutto la carriera politica di Clemente Mastella. Lasciamola un attimo da parte. Un'altra questione che riguarda l'ingerenza della magistratura in politica, che è fortissima. Da Tangentopoli in poi tre governi sono caduti per mano della magistratura. Il primo è il governo Berlusconi nel 1995, avviso di garanzia comunicato dal Corriere della Sera. Il secondo è il governo Prodi di centrosinistra con l'avviso di garanzia a Mastella e l'arresto di sua moglie. Il terzo è di nuovo Berlusconi col caso Rubi nel 2010-2011. Tutti e tre i processi finiscono con una soluzione piena. Erano inventati, i reati erano inventati, non c'erano, sono stati assolti. Allora, vogliamo affrontarla questa questione o no? Persino alcuni grandi personaggi di Mani Pulite, Colombo e in particolare Di Pietro, hanno detto sì, abbiamo esagerato, abbiamo fatto la politica delle manette, della paura, cercavamo reati dove non c'erano. Allora, affrontiamo questa questione. Per affrontarla dobbiamo tagliare nettamente un doppio nodo gordiano. Uno riguarda la politica, che deve intervenire e fare leggi che limitino il potere della magistratura, a partire dalle intercettazioni. Due, bisogna affrontare la questione che oggi la stampa e la magistratura lavorano in perfetto accordo, determinano le decisioni politiche, assumono un ruolo che non hanno e in questo modo mettono in crisi la democrazia.